Beh, intanto complimenti all'amministrazione comunale, al progetto 5 per la qualità di questo servizio che stanno portando avanti. Io in quegli anni ero un giovane sindaco di un piccolo comune del Casentino e eravamo uno dei tre comuni della provincia, assieme al comune di Arezzo e al comune di Foiano che avevano una scuola materna comunale. Probabilmente il comune di Capolona sarebbe stato il quarto comune se non fosse intervenuto nel trotto delle assunzioni, come diceva il sindaco Ciocchi. Ricordo che anche quelli, così come oggi, erano anni di furono, anni difficili per le amministrazioni locali e un po' complessivamente per il paese.